Ben ritrovati dalla redazione di Cosmopolis Media, ecco le nostre notizie. I falchi della squadra mobile hanno perlustrato una strada di campagna che costituisce il naturale prolungamento di viascoglio del tonno, spesso utilizzata come discarica di materiale di risulta. Sul ciglio della strada i poliziotti hanno rinvenuto tra i tanti detriti presenti una busta di cellophane trasparente dalla quale si scorgeva un manufatto esplosivo. La zona è stata pertanto immediatamente circoscritta con l'ausilio di alcuni equipaggi della squadra volante. L'ordigno avrebbe infatti potuto creare un concreto pericolo per chiunque fosse passato con la sua auto e avesse inadvertitamente calpestato la busta. Con estrema attenzione i poliziotti hanno aperto l'involucro di plastica e recuperato al suo interno una pistola semiautomatica clandestina completa di caricatore da sette colpi, 27 proiettili di vario calibro, due passamontagne artigianali creati con calze in nylon, un paio di guanti in lattice e un manufatto esplosivo artigianale di medio-alta potenzialità. Inevitabile a quel punto l'intervento del team artificieri della Polizia di Stato che con le dovute cautele ha preso in consegna l'ordigno per la successiva distruzione. La pistola e le munizioni sono state invece sequestrate per ulteriori accertamenti balistici. Sono al momento in corso le indagini per stabilire chi avesse disponibilità di quanto ritrovato. Nelle ultime settimane le fiamme gialle del comando provinciale di Taranto hanno eseguito controlli finalizzati a verificare la regolare percezione del reddito di cittadinanza. Gli accertamenti svolti dai finanzieri ionici hanno interessato target selezionati, permettendo di individuare 17 soggetti che avrebbero percepito illecitamente oltre 150.000 euro. Tali beneficiari avrebbero infatti attestato falsamente il possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore oppure omesso di dichiarare informazioni dovute. Contestualmente è stata avanzata alla Procura della Repubblica di Taranto una richiesta di sequestro delle somme. La competente autorità giudiziaria sta ora verificando le responsabilità penali e la sussistenza dei presupposti per il sequestro delle somme indebitamente riscosse. Le indagini dei reparti della Guardia di Finanza di Taranto sono ora finalizzate all'individuazione di eventuali regie criminose dietro la percezione illecita del reddito di cittadinanza. Nella mattinata di ieri 30 giugno il Consiglio Comunale Tarantino si è riunito con la formula del Question Time approvando varie emozioni. Tra le più importanti quella dell'organizzazione di servizi di vigilanza in entrata e uscita dalle scuole con il personale della Polizia Locale, integrato da quello della Protezione Civile. Al fine di fronteggiare la recrudescenza di episodi di microcriminalità che stanno interessando soprattutto i quartieri periferici del capoluogo ionico, il Consiglio ha poi deliberato favorevolmente sulla proposta di istituire nuovi presidi di Polizia Locale nei quartieri Paolo VI, Tamburi, Talsano, Lama e San Vito. Approvate anche le richieste per l'istituzione di un servizio di trasporto a mezzo navetta verso le spiagge di Lido Azzurro e Viale del Tramonto, nonché l'attuazione del progetto educativa in strada, volto a prevenire disagio sociale e devianza minorile. Infine parere favorevole per la mozione che impegna il Governo cittadino a partecipare alla missione di finanziamenti necessari all'installazione di videocamere di sorveglianza presso il centro direzionale Bestat, oltre a chiedere un potenziamento delle forze dell'ordine per la vigilanza della stessa area. Nella classifica stilata per questo 2023 dal report di Lega Ambiente, Mare Monstrum, il mare inquinato, la Puglia sale al secondo posto per numero di reati, 559 quelli accertati lo scorso anno dalle forze dell'ordine, pari all'11,8% del totale nazionale. La regione si piazza dietro alla Campania e scala due posizioni rispetto allo scorso anno quando si classificò quarta. Nello specifico sono state 483 le persone arrestate sul territorio pugliese per reati connessi al mare inquinato. Un dato importante da sottolineare riguarda l'incidenza degli illeciti nelle quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa che sale dal 51,8% del 2021 al 52,5% del 2022. Insomma resta alta la pressione dei fenomeni più gravi di illegalità in Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Lega Ambiente ribadisce anche quest'anno l'urgenza di attuare concretamente azioni con cui accelerare, anche attraverso il corretto utilizzo dei fondi previsti dal PNRR, il processo verso la piena ed effettiva depurazione delle acque reflue. Nell'incantevole scenario di Lido San Michele davanti al mare si è tenuta ieri sera la presentazione del libro edito da Cosmopolis e scritto da Marco Tarantino. È dal profondo è un'opera a ventaglio, apre temi diversi, tutti di stretta attualità attraverso il fluire di un racconto ben scritto. In fondo al pensiero resiste la ricerca di un'identità capace di saldarsi con l'ideale mediterraneo. A moderare l'incontro è stato l'architetto Terenzio Lo Martire. Beh, almeno cominciamo, vediamo come va. Sembra che stiano andando piuttosto bene le cose per essere soltanto un mese scarso che siamo in pista. Sono intanto contento stasera perché c'è un mio amico fraterno che è anche un coprotagonista al quale ci ispiriamo nel libro, ovvero Vanni Vacca che per ovvie ragioni diventa vacue nel libro. La storia è quella di un naufrago che è praticamente morto ma che per qualche motivo che poi si scoprirà decide di non morire e che non ha più memoria. Questa memoria la recupera un pezzo alla volta. È una storia terribile rispetto al punto in cui lui ha cominciato questa storia e il punto in cui invece la storia finirà. Vanni Vacque, che nella storia reale esiste, ha un ruolo perché la sua presenza servirà da grimaldello, cioè a far trovare dei pezzi di memoria al naufrago. Di che parlo? Di quello che più o meno ci siamo raccontati nelle varie chiacchierate post gabbia estive. Gabbia e poi lo spieghiamo cos'è. Un po' di scorribande della mia vita professionale, comunque sono militare, nelle varie chiacchiere ogni tanto qualcosa le raccontavo al prof e lui. Gli è venuta l'ispirazione di coinvolgermi in questa bella esperienza che per me insomma è stato un piacere far parte di questo racconto. La cabbia è un posto di matti nel quale Vanni ha un ruolo d'onore, cioè un luogo in cui teoricamente giochiamo a beach volley ma somiglia più al struggle for life, una cosa di questo tipo. Si gioca a beach, ci si uccide, ci si insulta a morte, ci si sputa addosso, dopodiché si sale sopra e si beve birra fino allo sfinimento e vale tutto là dentro. Quindi un guerriero come lui non potrebbe mai mancare, sono 30 anni che va avanti questa storia. Si è concluso nella mattinata di sabato 1 luglio presso le aule meeting della Santa Rita il percorso formativo organizzato dal Banco Alimentare con la conversazione intitolata Lio, il potere e le opere. Un ciclo di incontri di tre sessioni sul testo di Don Luigi Giussani, fondatore del Banco Alimentare, ideato per portare avanti un progetto di promozione sociale tanto grande come quello del Banco Alimentare, che nella sola Puglia serve un bacino di 55.000 utenti. Numeri per i quali è necessario mettere a sistema l'importante gesto di ogni persona che ha voglia di mettersi in gioco e donare prima che qualcosa, innanzitutto se stessa. L'intento principale è di riprendere quello che Don Giussani negli anni della sua vita ci ha detto, cerca la presenza del soggetto nella società civile e quindi lui diceva che per poter incidere nella società e per contribuire al bene comune occorre intanto una concezione dell'io presente, un rapporto con il potere umano e tutto questo generava a determinate condizioni nella presenza di opere capaci di venire incontro ai bisogni delle persone. Oggi è il terzo incontro, i primi due sono stati uno sull'io, l'altro sul potere e oggi sulle opere e vedremo praticamente come si estrinseca questa presenza del soggetto all'interno della società attraverso, lui le chiamava opere, cioè vale a dire tentativi organizzati di rispondere al bisogno degli altri. Ancora un fine settimana piovoso e meteorologicamente instabile, quello che caratterizzerà l'inizio di luglio in Puglia. Nella giornata di ieri la protezione civile regionale ha infatti diramato un'allerta gialla per rischio idrogeologico, valida per tutta la giornata di sabato 1 luglio. Saranno soprattutto il Salento, il Gargano e il Tarantino a poter essere interessati da precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, nonché rovesci intensi e forti raffiche di vento. Possibile anche la presenza di grandinate. Tuttavia, come spesso sta accadendo in quest'estate 2023, si tratterà di un peggioramento passeggero. A partire da lunedì 3 luglio, infatti, sole e temperature record torneranno a riscaldare le giornate pugliesi. Il Taranto Calcio è ufficialmente iscritto alla Serie C per il terzo anno consecutivo. Nella tarda serata di ieri 30 giugno è infatti giunta la mail PEC di conferma da parte della Commissione di Vigilanza delle Società di Calcio Professionistiche, che sancisce ufficialmente l'iscrizione della squadra rosso-blu al campionato 2023-2024. Si tratta di un atto burocratico ma di importanza rilevante, perché certifica la partecipazione degli ionici per il terzo anno consecutivo al torneo di terza serie. Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto, al prossimo aggiornamento.